Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video di Theogalove07 Oggi ragazzi, ho avuto un'idea durante un'ora di ginnastica, non so perché E dato che in questi giorni non posso giocare alla play, volevo portare dei video anche un po' diversi E ho deciso, raga, e ho trovato questo pallone qua Vabbè, è sporco perché l'ho utilizzato ovviamente E ho avuto un'idea, un'ora in avanti, raga, scriverò tutti i nomi dei miei scritti su questo pallone Quindi mettiamo che si scriva un tizio che si chiama Libretto Penarello Scriverò Libretto Penarello qua Quindi, raga, voglio riuscire a riempire il pallone con i nomi dei miei scritti Il primo scritto, raga, sarà anche il cinquantesimo Il primo scritto che scriverò sopra E così poi quando si riempirà, voglio vedere a quanti iscritti sono arrivati Ma non ci metterò poco, raga Sa che dovrà arrivare almeno a 300 iscritti, mi sa Perché qua in un solo cerchio, diciamo, ce ne staranno minimo 7-8 E niente, raga, iscrivetevi perché così poi quando il pallone sarà completo Lo metterò su uno scaffale e mi ricorderò di quando ho aperto da poco il canale Raga, quindi iscrivetevi Durante il tempo in cui continuerò a mettere i nomi Ovviamente quando arriverò a metà, quando starò per finire, ve lo dirò Comunque, raga, che dire Iscrivetevi al canale, non solo ovviamente per il pallone Cioè iscrivetevi anche per vedere tutti i miei video E mettete like ai miei video se ancora non l'avete fatto Attivate la campanellina E niente Se volete essere voi il prossimo nome sul pallone Iscrivetevi Ma anche se non lo siete, iscrivetevi Tutti iscrivetevi a questo video Ciao ciao